Inizio, due, uno, missione, e ripetere! Il gioco mi è stato regalato da Ivan Di Pietro, che ringrazio tantissimo, mi è stato regalato diversi mesi fa, poi non ho avuto ancora il tempo di portarvelo in video, costa 15 euro al momento, poi il prezzo potrebbe anche aumentare, vanta 8 location, 8 o 11 location, no, 11 location e 8 entità diverse. È anche in italiano e esprutta anche il microfono delle vostre cuffie, quindi, perché adesso io non conosco fasmofobia, sono sempre stato fuori da questi generi, ma qua potete fare anche l'esorcismo, quindi potete esorcizzare una caricatura andando a leggere direttamente da un libro, adesso io non credo di potervi far vedere, però forse sì. Allora, praticamente quello che noi andremo a usare nel corso delle avventure sarà la fotocamera, che praticamente con la Q ci farà vedere di notte, l'occultometro, quindi praticamente ci aiuta a individuare oggetti maledetti, il flash istantaneo, perché alcune entità sono sensibili alle foto istantanee, il flash, questo è il copaggiamento di alto livello per rilevare pentagrammi, questo è un sensore di scanner ambientale, praticamente per vedere cose che magari possiamo già vedere con le videocamere, però cose, sfere diciamo fluttuanti nell'aria, queste sono superfici scritte e di disegno, perché alcune entità, se li mettete davanti una a un libro, possono scrivere uno o l'altro, e quindi qua potrebbe far, diciamo, andare la nostra decisione di identificare una creatura per una piuttosto che per l'altra, in base se scrivono o disegnano, abbiamo gli oggetti maledetti con cui possiamo prendere e scansionare, abbiamo più oggetti nella stanza e magari l'entità è legata a uno di questi oggetti, noi dobbiamo scoprirlo, abbiamo il rilevatore di minacce che si illumina, diciamo, quando c'è una minaccia, perché il nostro personaggio può essere messo a rischio di comunità, insomma, dall'entità, vi ricordo che il gioco è anche multiplayer, quindi dovete sempre considerare che rende da soli ma in compagnia decisamente meglio. Barriere delle porte, praticamente può bloccare una porta o mettere una trappola, abbiamo l'analizzatore di entità, quindi ci emette un codice e questo codice è univoco, ce ne sono diversi e può aiutarci a risolvere un'indagine. La torcia, la scatola spiritica, praticamente va a prendere delle onde radio, il termometro perché ogni entità magari diffonde all'interno di un'area una certa temperatura e abbiamo il K2 che poi è le onde elettromagnetiche, insomma, uno degli strumenti penso più conosciuti. Quindi questo è una zona buia dove noi con la telecamera possiamo andare a vedere, e vedete in questo caso c'è l'esempio che ci mostra queste sfere, quindi qui c'è qualcosa, quindi dobbiamo andare a fare dei test, ovviamente mettendo sempre a rischio la nostra incolumità. Abbiamo i libri, i quaderni, appunto, per far scrivere l'identità, possiamo gettargli acqua santa, possiamo mettergli la statuetta sacra, il crucifisso, piuttosto che buttargli anche delle pietre, insomma, dei talismani, del creare delle trappole, l'incenso che potrebbe irritarli, il riso, possiamo buttare il riso e romperlo, quindi creare una trappola, oppure usarlo all'interno dello sparasale. Sparasale mi ricorda sempre Zipo Aperone, però insomma quando si spara anche il sale, ci sono delle bevande rinfrescanti e kit di revival per rimetterci in sesto qualora dovessimo sentirci male, nel tutorial sono quasi svenuto, e questa è la zona che sembra come un aeroporto, con le mappe delle case, è una sorta anche di museo con tutte le cose, e l'area di tiro che invece ci fa usare questo che sono le onde, sembrano quelle dei Ghostbusters, lo sparasale, e qua possiamo andare ovviamente a vedere come funzionano le armi. Questa è una presentazione base, ci sono anche dei pupazzi, poi ogni tanto che possono animarsi, questa è una presentazione molto base, dicevo, si può andare a selezionare un contratto, ci sono diversi contratti che possiamo prendere dal tablet, possiamo acquistare anche un contratto personalizzato, e andare a fare le varie missioni. Il gioco ovviamente qui non lo approfondiremo come vorrei, insomma, ma dovete tenere conto che potete andare ad acquistare più equipaggiamento, perché le missioni normali vi danno già comunque il vostro camper, il vostro motorhome, pieno già degli oggetti di cui avete bisogno, mentre le missioni più avanzate non vi danno niente, quindi dovete decidere voi tutto l'equipaggiamento. Voi salite sul camper con i vostri amici, che si sono collegati. Ah, vi faccio vedere un'ultima cosa prima di partire. E praticamente, basta, poi iniziate a giocare. Questo è il libro degli esorcismi, perché alcuni hanno bisogno di un esorcismo, quindi aprendolo possiamo andare a leggere. Tu che infesti questo luogo in nome del Signore... E praticamente pronunciandola, il vostro microfono coglie la frase e diventa gialla. Dopodiché iniziate a leggerle tutte e completate l'esorcismo. Alcuni di queste entità hanno bisogno di questo. Abbiamo la fantasmopedia, che ci dà praticamente noi possiamo scegliere gli indizi, le prove raccolte. Possiamo andare a fare, a selezionare che tipo di entità è, in base anche alle prove raccolte, non è automatizzato. E poi ci sono, in base a quello che abbiamo scelto, i passaggi per esorcizzare quella creatura. Nel caso in cui fosse un poltergeist abbiamo gli indizi, vabbè, insomma, per poter andare a farlo. L'enciclopedia invece ci dà tutte le creature, quindi l'omba, il poltergeist, la memoria, la revenant, la precisione caduto, il demone, il bambino, il clown. Tutte le case che possiamo poi andare ad acquistare spendendo soldi di gioco per accedere appunto a location nuove. E dopodiché abbiamo il tipo di contratto, il normale, possiamo comprare il difficile, salvare il difficile esorcista. E tra l'altro un po' così vi dico la verità, quindi ci sono alcune inesattezze. Mercato Fantasma, possiamo andare ad acquistare ulteriori cose che tra l'altro non me le ha ancora date, quindi vabbè, io posso comprare qualcosa. Qui, acquisto. Uno, acquisto uno, acquisto anche questa. L'illuminazione è una torcia, me la prendo 20 euro. consumabili, mi prendo il sale grosso perché è comodo. L'acqua santa che è comoda, l'incenso che mi potrebbe essere utile. Fotocamera a livello 16, quindi non le abbiamo. Strumenti del paranormale, il K2 non ce l'abbiamo. Possiamo prenderci questo, la scatola spiritica. Lo scanner è a un livello altissimo, strumenti ordinari. Invece il termometro, il quaderno, il libro di esercismi non ce li abbiamo ancora. Quindi ho speso circa 600 euro. Quindi gli oggetti poi mi dovrebbero venire già caricati sul furgone. Comunque noi partiamo e andiamo a vedere. Ricando qua, con gli amici a bordo, potete partire e poi vedere la missione. Il gioco ovviamente non è originale perché è uscito dopo Fasmophobia, però ognuno poi cerca di aggiungere degli elementi. In questo caso da quello che ho letto, poi non so se l'hanno aggiunto anche su Fasmophobia, c'è l'esorcismo. Infatti vedete che gli oggetti ci sono praticamente tutti. Io ne ho comprati in più, però ci sono tutti. Qua potete tenere i vostri amici perché se qualcuno di voi va dentro, mette le telecamere e da qua è possibile vedere quello che sta riprendendo. Infatti sta riprendendo i sedili perché la telecamera è ferma qua. Ora, la casa è lì, non c'è niente. Dovremmo iniziare a capire che cosa si cela all'interno di questo posto. Quindi iniziamo prendendo magari questa, così guardiamo con questa, magari troviamo qualcosina di interessante. Intanto la metto via, posso ritirarla fuori in quel stessi momento e apriamo la porta. La porta è tipica dei giochi oro, quindi vediamo. Potete anche scattare le foto. Vediamo se vanno le luci. E qui si inizia a dare un'occhiata a quello che è il luogo infestato. Iniziamo ad accendere un pochino la luce, ovviamente non lo completeremo in questo caso, però è giusto per capire... No, ho scattato la foto, non volevo... Questa porta si apre in fuori, questa si apre in dentro. Qua si esce, perfetto. Qua dovrebbe esserci la luce. Cercare di capire dove può essere. Ad esempio è uscito anche Demonologist, che fa un ampio uso anche della voce, non solo per gli esorcismi, come in questo gioco, ma anche per parlare. Non credo che questo gioco lo prenda... Ok, qua ho percepito qualcosa, quindi secondo me... Vedete che batte il cuore del nostro protagonista, quindi probabilmente... C'è qualcosa qua, c'è qualcosa qua, c'è qualcosa qua... Ok, sì, è lì, è qua. È decisamente qua, in cima alle scale. Quindi praticamente noi adesso abbiamo... Andiamo nella Conesca qui. Allora, andiamo prima a rilevare le MF. Queste sono tra 4 o 5. Dunque, poi ci portiamo un po' di cose. Allora, metto via questa. Allora, quello sappiamo che è lì. Quindi mi prendo questo. Mi prendo le onde radio. Magari metto via questa. E che cosa volevo fare? Vediamo se reagisce anche con il quaderno. Ok? Allora, iniziamo con questo e vediamo quanto... Oddio, mi ha spinto giù. Mi ha spinto giù. Due. Allora, la domanda potrebbe essere... Mette paura il gioco? Mi è venuta un po' d'ansia adesso. Però, quando mi ha spinto giù, ho sentito dei movimenti. Però sapete che un essere c'è. Lo dovete scoprire. Quindi potrebbe spaventarvi le prime volte. E poi, secondo me, finisce lì la cosa. Mannaggia, ho lasciato giù la camera. Perché si è spostato. Mi ha spinto giù. Quindi probabilmente è andato a guardare qualche parte. Infatti sento il battito. Ok, due. Sta atticchettando da qualche parte. Vedete? La zona era qua. Può che si è spostato di qua. Non l'abbiamo aperta, sta stanza. No. Perché lui non ha bisogno di... Qua c'è qualcosa. No. No. Allora. Vediamo un attimo. Non lo so, sapete? Qua ci sono scarafaggi. Ok, sappiamo che ci sono scarafaggi. Quindi fatemi andare qua. Allora, metto infestazione scarafaggi. Le MF non l'ho ancora rilevato perché non so onestamente dove sia. Si è spostato. Quindi non riesco neanche più a orientarmi. E non so neanche dove andare. Ok. Qua no. Perché mi ha tirato giù prima. Qua è uno. Non ho finito ancora di vedere tutta questa zona qui, ma... È possibile che ci sia qualcuno qui? No. La luce si è accesa da sola o l'ha accesa lui? Bisognerebbe tornare qua con la camera. E soprattutto la base di questi giochi è magari piazzare la telecamera e cercare di capire dove va in quel momento lì. Quindi, teoricamente, questa sarebbe... Allora, fatemi vedere che cosa posso mollare questo al momento che non mi interessa. Prendo questa e così cerchiamo con questa di capire dove è andato. Perché, come ho detto, prima era qui. Sì, è qui. L'ho visto. Ho visto... Ho visto... Ho visto un movimento. Eccolo lì. Dovrebbe essere lì. Eccolo lì. Prendo il libro. Lo apro. Vediamo se disegna. E' qui. E' qui ma non disegna. Non scrive. Fatemi vedere con questo. No. Non scrive niente. Però comunque lui è qui. Adesso io provo a spegnere la luce. Magari gli da fastidio la luce. Non scrive. E' qui. L'entità è qui. Devo provare a fare un esperimento. Allora, intanto, fatemi buttare questa qua. Voglio fargli una polaroida e vedere se... Se reagisce a quella. Non nemmeno sappiamo che reagisce alle foto. Lui è qua. No, non reagisce. Tra l'altro... E' qui ma... Ma non è qui. Fatemi buttare questa. Voglio riprendere questa perché voglio essere sempre sicuro che sia qui. Sì, è qui. E' qui. E' qui. Sfere di luce. Ok. Abbiamo le sfere di luce ed è una cosa ovvia. Adesso ci piazziamo la telecamera davanti. E vedete che qua se fossimo stati comunque in due si poteva mettersi d'accordo. Insomma, andare a... Allora, intanto voglio prendere questo prima. Così vi faccio vedere anche il funzionamento di questo. Perché voglio usarlo e scansionare la zona. Ma dove cacchio? Ah, l'ho messo qua. Ok. Prima non trova segnali. Non so se dobbiamo farlo manifestare in qualche modo ma... Segnali non ne trova. Potremmo appoggiare qua anche questo. Prendiamo l'altro. E sembra essere un caso abbastanza complesso questo. Vediamo. Prendiamo la telecamera. E la piazziamo qua davanti. Non so esattamente come si piazzi la telecamera. Ma ci proviamo. Prendiamo qua. Ok. Piazzata lì. Questo ha visto qualcosa? Sì. Perché ha trovato qualcosa. Ok. Adesso si sta manifestando. Adesso ci dà un codice. È il 350. Perfetto. Mi torna giù. Allora. Spengo questo. Butto questo. Prendo questo. 350. Quindi questo. Prendo questo. Gli attivo la visuale notturna. Che voglio vedere. La telecamera sta puntando sempre là. Sfere di luce. Ok. Voglio andare a vedere adesso. Dal camper. Che cosa abbiamo visto? Eccole lì le sfere di luce. Con le telecamere invece quelle col movimento possiamo muoverle. Posso prendere una foto. Comunque abbiamo questi indizi. Io non... Vedete che qua è tradotto un po' così. Tappola di sale. Dici. Proviamo. Proviamo ma... In realtà non so se... Allora lui non disegna. Abbiamo visto. Mettiamo un libro. Io prendo questo. E il sale. Che è questo. Proviamolo. Tanto è qua. Vorrebbe essere subito lì dopo la porta. Vediamo se riusciamo a ferirlo. Ho fatto un po' di foto. Ma non c'è nulla sulle foto. Quindi vedete è questo? No. Troviamo niente qua. Accesa la luce. Non riesco a capire. Perché c'è un indizio. Però mi sentirei di escludere l'entità memoria. Perché l'entità memoria non va in giro. Ti vedete qua che possiamo andare a ipotizzare questo. Ci dai passaggi. Vedete usa una pistola in neutrino per esterminare... Fai un flash vicino all'entità con la fotogramma istantanea. Ma non ha dato a reazione. Quindi a esclusione potremmo fare un revenante. Usa una pistola. Flash vicino. Distrugge il totem con una pistola in neutrino. Dovremmo trovare anche il totem. Vedete che qua si stanno aprendo tutta una serie di possibilità. Di risoluzione del caso. Cioè dobbiamo capire che tipo di entità è. E poi dobbiamo... Oh, è arrivato qualcosa? Qui? No. Qui sì. Cioè è bello perché comunque è una vera e propria indagine. E quindi bisogna in compagnia di tutti. Ognuno fa il suo. Io adesso sto facendo tutto da solo. Quindi se lui si sposta in un altro punto della casa io non lo trovo. E quindi sono appunto a capo. Essendo in più persone. Magari avete completato missioni. Siete riusciti a comprare equipaggiamento per più persone. Vi è più comodo girare con più cose. Mi ha spinto via. Mi ha spinto via. E sto anche per svenire. Eccolo lì. Eccolo lì. Sono svenuto. L'ho visto. L'ho visto e camminava. E probabilmente sono anche morto. E ho fallito. Eh sì. Abbiamo fallito. Quindi. Avevo visto cos'era. Camminava. Io al primo caso. Quello del tutorial. Era una memoria. Quindi non era nulla di. Diciamo che potesse camminare. Comunque ragazzi. Il gioco. È veramente carino. Qua potete ovviamente poi salire di livello. Andare a comprare varie cose. Ci sono tutte le statistiche. Che avete. Delle vostre partite. E in italiano. Potete segnalare i bug. Giocare in multigiocatore. Quindi vedrete. La quantità delle persone. Che con cui giocate qui. C'è anche un ampio tutorial. Quindi potete. Selezionare la missione del tutorial. Ed è abbastanza lunghetta. Dura una mezz'ora. Ma vi insegna. A utilizzare tutti gli strumenti. Che abbiamo visto. Cioè. Non tutti. Ne abbiamo visti solo alcuni. Il tutorial vi. Ve li fa usare tutti. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Di questo bel titolo. E noi ci sentiamo. Al prossimo video gameplay. Grazie ancora ad Ivan. Per il regalo. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Ciao.